Angelica, sono andata avanti a leggere il numero dei libri. Ho trovato dei capitoli sulla storia di Balaam che, non so, mi sembrano un po' ironici. Tu cosa ne pensi? Beh, guarda, non sono ancora arrivata a leggerli, però penso che nella Bibbia ci siano dei racconti un po' più ironici. Potremmo chiedere a Don Mirko? Chiamiamolo Don Mirko. Ciao ragazze, ciao! Di cosa stavate parlando? Ho letto il capitolo sul libro di Balaam e non ho ben capito, mi sembrava ironico. Sono pagine davvero simpatiche, ironiche. Hai capito un po' il senso della storia? Sì. Ecco, questa storia parla di un re nemico, il re di Moab, che vede che questi ebrei usciti dall'Egitto, che sono adesso nel deserto, rischiano di essere un popolo pericoloso, nel senso un popolo potenzialmente nemico che potrà sconfiggerli nelle battaglie. Quindi questo Balak, re di Moab, vuole assoldare un grande personaggio di quel tempo, un certo Balaam, figlio di Beor, una sorta di veggente, di uomo di Dio, di profeta. Vuole assoldarlo, pagare a questo Balaam tutto quello che Balaam vorrà, purché Balaam maledica il popolo degli ebrei. E maledire il popolo degli ebrei vuol dire di fatto rovinare la vita degli ebrei, in modo che gli ebrei non potranno mai sconfiggere Moab, ma anzi verranno loro annientati. E cominciamo comunque a leggere alcune pagine, alcuni versetti di questa storia, che si trova nel libro dei numeri, ai capitoli 22 fino a 24. Balak, figlio di Sippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò messaggeri a Balaam, figlio di Beor, nel territorio dei figli di Amau, per chiamarlo e dirgli, ecco un popolo è uscito dall'Egitto, ha ricoperto la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Ora dunque vieni e maledici questo popolo per me, poiché esso è più potente di me. Forse riuscirò a batterlo per scacciarlo dalla terra, perché io lo so, colui che tu benedici è benedetto e colui che tu maledici è maledetto. Ma perché Balak voleva maledire quel popolo? Ecco, Balak vuole maledire il popolo degli ebrei perché si rende conto, dice, che ha ricoperto la faccia della terra, lo trovate qui al versetto 5, cioè sono davvero numerosi e Balak si rende conto che è più potente di me questo popolo. Il popolo di Moab, di cui Balak è il re, è meno numeroso e sembra meno forte del popolo degli ebrei. Allora lui vuole premunirsi e vuole che questo grande Balaam, uomo di Dio e profeta, maledica il popolo perché se è davvero uomo di Dio, la maledizione di Balaam non può che venire da Dio e quindi Dio ma le dice il popolo degli ebrei, il che vuol dire che il popolo degli ebrei è destinato alla sconfitta e all'annientamento. Quindi Balak vuole strumentalizzare, mettiamola così, il potere di Dio vuole strumentalizzare questo profeta Balaam allo scopo di garantire la sopravvivenza del suo regno e la vittoria del suo regno in eventuali scontri militari. Dio disse a Balaam, tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché esso è benedetto. Ma perché Dio ha detto a Balaam che non può maledire quel popolo? Ecco, quando Balak manda degli emissari da Balaam pieni di oro, di argento a dirgli questo è il tuo pagamento, tu vieni per favore a maledire il popolo degli ebrei, Balaam dice guarda io non posso che benedire chi Dio vuole benedire e non posso che maledire chi Dio vuole maledire, non è che io mi invento chi benedire chi maledire, per cui lascia che io consulti Dio e dopo vedremo cosa devo fare. Balaam consulta Dio e Dio appunto come abbiamo letto gli dice no, assolutamente no, è il mio popolo figurati se voglio che venga maledetto, tu anzi dovrai benedirlo. E quindi Balaam dice no cari emissari, io non posso fare quello che mi chiedete, neanche per tutto l'oro del mondo perché questo popolo è benedetto da Dio. In seconda battuta, in seconda battuta Balak manda ancora altri emissari con ancora più ricchezze e questa volta Dio non dice non andare e non intrigarti con il re Balak ma dice vai e anzi vedremo cosa succede e qui nasce allora tutta la storia ironica che tu hai trovato. Cioè questo Balaam è su un'asina, monta un'asina che naturalmente lo maltratta, lo fa andare contro un muro, si accovaccia ai suoi piedi e quindi quasi Balaam casca a terra, lo fa deviare dalla strada nei campi quindi con un viaggio davvero scomodo. Perché motivo? Perché questa asina che poi si mette a parlare e qui c'è un altro aspetto interessante della storia, quest'asina naturalmente dice a Balaam guarda che io sono mandato da Dio, in questo modo è chiaro che io porto la volontà di Dio che non è assolutamente quella di maledire il popolo degli ebrei ma è di benedire questo popolo. E infatti ecco qui che Balaam, e siamo al capitolo 23 al versetto 7, Balaam pronunciò il suo poema e disse da Aram mi fa venire Balak il re di Moab dalle montagne d'Oriente e dice vieni maledici per me Giacobbe, vieni minaccia Israele. Come però maledirò quel che Dio non ha maledetto? come minaccerò quel che il Signore non ha minacciato? Perché dalla vetta delle rupi io lo vedo e dalle alture lo contemplo. Ecco un popolo che dimora in disparte e tra le nazioni non si annovera. Chi può contare la polvere di Giacobbe o chi può calcolare un solo quarto di Israele? Possa io morire della morte dei giusti e la mia fine sia come la loro. Di fronte alla volontà del re Balak di fare in modo che Balaam maledica il popolo degli ebrei, per tre volte Balaam in tre tentativi non può che esprimere parole belle per gli ebrei. E quindi è interessante ed anche ironico vedere come Balak insista con Balaam, maledici questo popolo e invece il profeta se ne esca con parole di benedizione. Allora Balak si arrabbia, ma no ti ho chiamato per maledirlo. E lui dice Dio ha voluto così, dai riprova. Allora il profeta riprova ma e ne esce una benedizione. Il re si arrabbia ancora di più e gli dice, e qui fa morire da ridere, dice se non riesce a maledirlo almeno però cerca di non benedirlo. E qui c'è ancora l'ironia. Allora Balaam per la terza volta fa questa profezia e ancora la profezia è una benedizione nei confronti degli ebrei. Ad esempio in questo testo appunto lui dice questo popolo è davvero così numeroso che nessuno può calcolare un solo quarto di Israele. Cioè anche calcolare una parte di questo popolo è un'impresa impossibile da quanti sono, da quanto potenti sono. Possa io morire della morte dei giusti e sia la mia fine come la loro. Cioè sono le persone giuste, sono le persone benedette, Dio le ha benedette, io non posso che benedirle. E quindi tu caro re Balak non puoi niente contro di loro perché sono benedetti da Dio. Perché motivo sono benedetti da Dio? Perché sono il popolo eletto da Dio. Se vi ricordate quello che abbiamo trovato nel libro dell'Esodo, il popolo degli ebrei è stato liberato dall'Egitto con forza da Dio e Dio ha stabilito un'alleanza sul monte Sinai con questo popolo dicendo voi siete un popolo particolare, siete un popolo speciale ai miei occhi, siete una nazione speciale con la quale e solo con voi io voglio stabilire la mia alleanza. E quindi è chiaro che questo tentativo del re Balak di maledire il popolo di Israele è senza senso, senza alcuna logica perché Israele anzi è il popolo benedetto da Dio. E questo Balam che è un profeta, che è un uomo di Dio, naturalmente non casca nella promessa di tanto denaro, di tanta ricchezza che gli vorrebbe dare il re, ma dice quello che è benedetto da Dio è benedetto anche da me e quello che Dio lo maledice anche io lo maledirò. Infatti proprio alla fine di questo episodio in cui alla fine il popolo di Israele viene sempre benedetto, capita che sia invece il re di Moab e il suo popolo ad essere maledetti. Loro che cercavano una maledizione per Israele alla fine ottengono, dopo tutta la loro insistenza, una maledizione su loro stessi. E questo mi pare anche un altro importante capovolgimento presente nel nostro brano. E allora torniamo mi pare alla questione Susanna iniziale che tu avevi detto, cioè questo brano mi fa un po' sorridere, in effetti è una storia particolare, la storia in cui c'è un'asina che si mette a parlare e parla al suo padrone Balam dicendo guarda che io non sono cattiva verso di te, ma semplicemente io eseguo la volontà di Dio che mi ha detto che tu non devi assolutamente maledire Israele. E per farti capire questo sono stata disposta a spingerti e a schiacciarti contro un muro, sono stata disposta a portarti dalla strada ai campi e quindi con un viaggio davvero terribile e sono stata disposta a praticamente quasi farti cadere per terra pur di avvisarti che non devi maledire Israele ma devi benedirlo. Ed è bello vedere come nella Bibbia non solo questa pagina ma altre pagine sono, per chi sa leggere con attenzione, sono ricche di ironia. E l'ironia certamente, voi lo sapete, quando leggete un testo che ha dell'ironia siete più attirati, è più bello. E la Bibbia è un testo fatto per essere letto, per essere apprezzato e quindi al suo interno ha più spesso di quello che noi penseremmo delle pagine piuttosto ironiche. Vediamo adesso in conclusione l'ultimo tentativo di Balaam costretto, diciamola così, a maledire il popolo di Israele ma anche qui se ne esce con una benedizione. Notate che ogni volta che Balaam è costretto a maledire se ne esce con una benedizione e la benedizione è sempre più forte. Come dire che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, come a dire che contro la volontà di Dio niente si può fare e anzi più uno si intestardisce nel seguire una strada opposta rispetto a quella di Dio e più nella vita poi gli arrivano le disgrazie e i castigli. Leggiamo allora l'ultimo oracolo che dovrebbe essere di maledizione per quello che vuole il re Balak ma diventa una grandissima benedizione invece per Israele. Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'altissimo, di chi vede la visione dell'onnipotente, cade e gli ha tolto il velo dagli occhi. In questi primi due versetti notate in termini ridondanti come questo Balaam parli di sé come appunto di un uomo di Dio, cioè io sono un uomo dall'occhio penetrante, io riesco a vedere quello che le persone normali non riescono a vedere, ho una visione appunto di profeta, cioè riesco a vedere con gli occhi di Dio, l'occhio penetrante. Oracolo di chi ode le parole di Dio, io sono uno che è in comunicazione con Dio, ascolto subito la sua parola, conosco la scienza dell'altissimo, insomma il nostro Balaam ha una certa consapevolezza di sé, vede la visione dell'onnipotente e dice io lo vedo ma non ora, io lo contemplo ma non da vicino, quindi dice alla lontana vi dico una profezia, una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di Seth, Edom diverrà sua conquista e diverrà sua conquista Seir, suo nemico, mentre Israele compirà prodezze, uno di Giacobbe dominerà e farà perire gli scampati dalla città. Notate che in questa visione, che è la benedizione più grande lanciata da Balaam nei confronti di Israele, a un certo punto si dice che una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele, quindi abbiamo una profezia che originariamente nasce come profezia probabilmente del re Davide e della monarchia di Davide in Israele, quindi una monarchia forte, una nazione forte, una stella, uno scettrono, segno di regalità che nasce in Israele e questa regalità è così forte che a un certo punto si dice spaccherà le tempie di Moab, immagine davvero raccapricciante, ma Moab è il regno del nostro Balak che ha fatto partire tutta questa gran confusione, voleva maledire Israele e invece sarà lui che viene maledetto, infatti nel futuro dice Balaam Moab sarà assolutamente annientato da Israele che spaccherà le tempie di Moab. Più avanti ancora una stella spunta da Giacobbe nella lettura cristiana naturalmente si parla anche in questo senso della nascita di Gesù, di Gesù che è venuto in mezzo a noi ad abitare e nasce da Giacobbe, cioè nel popolo di Israele nasce colui che è il Messia, che è il salvatore del mondo. Quindi mi pare interessante come a partire da questa storia così ironica, così particolare, si sottolinea ancora una volta la grande benedizione e unicità del popolo di Israele e si guardi in avanti nel futuro da un lato parlando del re Davide, della grande monarchia di Israele e ancora più avanti della figura di Gesù Cristo come Messia e Salvatore. Grazie.